Manuel Codignoni, radiocronista e commentatore della Formula 1 per il giornale Radio Rai. Questa notizia dell'arrivo di Hamilton era attesa nel circuito? Diciamo che era attesa da ieri, da quando ci sono state delle anticipazioni di stampa. In realtà se ne è parlato spesso nel corso di questi 17 anni di carriera di Lewis Hamilton in Formula 1, ma quella della Ferrari e quella di Hamilton sono traghettorie che si sono sfiorate ma mai incrociate. E' arrivata, poi in realtà come un fluminale c'è il sereno, la bomba e a quel punto non c'è stata più possibilità da parte sia della Mercedes che di Hamilton che della Ferrari di andare a smentire. Dunque si è compiuto questo matrimonio che potremmo definire veramente il matrimonio del secolo, tra la squadra Mito, la Formula 1 e un sette volte campione del mondo. Ecco, cosa potrà portare in più un sette volte campione del mondo a Maranello? Diciamo che oltre alla sua grande capacità di guida potrà portare un'esperienza non solamente agonistica e appunto diciamo di pilotaggio, ma anche l'esperienza di una squadra vincente come la Mercedes. La Mercedes è stata la scuderia dominatrice dell'era turbo ibrida con tutti quanti i mondiali vinti e dunque diciamo una sorta di know-how che in Ferrari farebbero bene a cercare anche insomma di andare ad assimilare, perché spesso e volentieri a mancare in questi anni in Ferrari non è stato tanto il lato dei piloti, il lato del pilotaggio, ma proprio la fase di costruzione e sviluppo della vettura. Il know-how che potrà portare Lewis Hamilton ha un valore assolutamente inestimabile oltre alla grande esperienza maturata in tutti quanti questi anni. Per cui diciamo un modo di lavorare è un'esperienza e una cultura tecnica che in Ferrari dovranno cercare di far tesoro. Questo annuncio un anno prima ti ha sorpreso? Diciamo che è un qualcosa di strano, è un qualcosa che non è inedito del tutto, ma diciamo che non mette nelle migliori condizioni poi le parti di affrontare questo 2024. Penso per esempio a Carlos Sainz con la Ferrari che correrà un anno, non dico da separato in casa, ma diciamo non nelle condizioni psicologiche migliori. Anche allo stesso Hamilton che in Mercedes immagino che da giugno in poi verrà escluso dai meeting tecnici per non portare i segreti alla concorrenza. Quindi ecco questo forse è l'unico aspetto negativo di questo matrimonio, secondo me. L'annuncio così anticipato con una stagione ancora da correre. E poi c'è chi avanza perplessità anche sull'età di Hamilton che arriverà intorno ai 41 anni. Diciamo che fino a qualche anno fa poteva essere una perplessità. Le prestazioni invece di Fernando Alonso, soprattutto nell'ultima stagione, Alonso che è un classe 1981, Hamilton è un classe 1985, L'anno scorso con la Ston Martin ha fatto vedere che si possono fare ancora tante grandi cose anche oltre i 40. Per cui se la Ferrari darà a Hamilton una macchina vincente io non credo che l'età potrà essere un problema perché il fatto che a fine carriera Hamilton abbia deciso di sposare la causa Ferrari ci dà l'idea di una grande motivazione. Spesso e volentieri la motivazione è più forte dell'età, più forte degli acciacchi della carta d'identità, più forte di qualsiasi altra cosa. La convivenza con Leclerc, come la immagini? Questo è un aspetto cruciale perché io mi immagino anche che Leclerc, su cui la Ferrari ha investito tanto nel corso degli anni, a un prodotto della Ferrari Driver Academy, non vorrei che si sentisse un po' scavalcato da questa decisione perché ovviamente se io fossi l'onfondo IPI a Maranello, il pilota su cui la Ferrari ha investito e poi di punto in bianco mi vedessi affiancare un sette volte campione del mondo, non so se la prenderei bene. Va anche detto che si tratta di ragazzi professionisti abituati comunque a combattere in pista, per cui io credo che potrebbe essere oltre a questo anche uno stimolo per cercare di migliorarsi e per carità magari anche di imparare. Sappiamo che spesso e volentieri l'unico punto debole di Leclerc dal punto di vista del pilotaggio è stata la gestione delle gomme in pista, su cui per esempio Sainz gli è sempre stato un po' superiore. Ecco, Hamilton è un maestro della gestione delle gomme, potrà imparare anche questo per crescere ulteriormente Leclerc. Quindi diciamo pungolo e stimolo. Ecco, per chiudere, che stagione ti aspetti con questo annuncio dell'arrivo dell'anno prossimo? Allora, diciamo che chi in questo momento sta sorridendo secondo me è la Red Bull, che sa probabilmente di avere anche nel 2024 la vettura superiore e queste scaramucce tra Mercedes e Ferrari potranno solamente giovare alla squadra guidata da Max Verstappen. Vedremo, poi ripeto, noi facciamo tutti quanti dei ragionamenti sul correre da separati in casa, ma questi ragazzi sono professionisti, sono ragazzi che si giocano il futuro e poi per esempio nel caso di Sainz c'è anche da trovarsi un altro ingaggio. È chiaro che su di lui ci sono le sirene della Audi, visto anche i legami della famiglia Sainz, il papà di Sainz, Sainz Senior ha vinto la Dakar proprio con l'Audi, quindi in realtà una strada già tracciata c'è, ma insomma lui deve cercare di farsi vedere per meditare quel posto. E poi insomma, anche Hamilton non è che corre per fare figuracce, non lo fa nessuno, figuriamoci Hamilton. Per cui alla fine della fiera correranno comunque tutti quanti motivati al netto di qualche possibile frizione che potrà arrivare nella seconda parte della stagione. Grazie a tutti.